Centrale e cogenerativa di Priolo, vertice di Brown to Green, Sisi l'incontro nel Presidente di Convindustria Reale. A seguito del perfezionamento del closing avvenuto il 17 ottobre e dell'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Airpower SRL da parte della Akernar Energy appartenente alla Holding Svizzera Akernar Assets AG, Corrado Agusta, amministratore delegato Akernar Assets AG e Simone Mallardi, Presidente Akernar Energy, accompagnati da Giancarlo Bellina, Presidente e amministratore delegato di Brown to Green Sisi lì, hanno fatto visita al Presidente di Convindustria Siracusa Giampiero Reale. La nuova società Brown to Green Sisi lì in continuità gestirà la centrale cogenerativa di Priolo a basso impatto ambientale e alta efficienza alimentata a gas naturale. Il Presidente Reale ha rappresentato le peculiarità della zona industriale, l'integrazione tra le aziende e la condivisa politica industriale del territorio sviluppata in più di mezzo secolo di storia industriale con maestranze e management altamente qualificati. L'amministratore delegato Akernar Assets AG, Corrado Agusta e il Presidente Akernar Energy e Simone Mallardi hanno sottolineato l'importanza di avere trovato una zona industriale integrata con aziende internazionali che rappresentano affidabilità e sicurezza per gli investimenti futuri. Sono certo, ha detto il Presidente Reale, che avvieremo una proficua collaborazione e un percorso condiviso sullo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del polo industriale di Siracusa. Grazie. Grazie.